Un testo molto breve, ma è la cosa che assomiglia di più al mio stato d'anima attuale. Là c'è una porta rossa, la vorrei tinta in nero. Niente colori, tutto dipinto in nero. Io volterò la testa fino a quando arriva il nero. Là c'è una fila d'auto e sono tutte nere, con i fiori e con il mio amore che non tornerà più. Io se mi guardo dentro vedo il mio cuore nero, poi forse svanirò e non dovrò più guardare la realtà. Come si fa ad affrontare le cose se tutto il mondo è nero? Grazie. Tratto da Tournée, monologo di Fabrizio Bentivoglio. Ciao.